Una vera e propria esecuzione in stile mafioso come si fa coi boss nonostante avesse solo 24 anni. L'agguato mortale è avvenuto all'alba nel fortino del clan Grimaldi nel quartiere di San Pietro Appatierno. Benvenuto Gallo è deceduto subito dopo il ricovero all'ospedale Cardarelli dove i gnoti l'hanno scaricato in condizioni disperate. Troppo gravi le ferite riportate da un colpo di pistola esploso alla nuca. L'agguato stando a una prima ricostruzione dei fatti si è consumato poco dopo le quattro. Secondo i primi accertamenti eseguiti dai carabinieri della Compagnia Stella e del nucleo investigativo, il giovane 24 anni compiuti a settembre sarebbe stato freddato mentre si trovava nei pressi del Civico 30 di Via Comunale della Luce dove era stata segnalata l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco. In strada, all'arrivo dei militari, erano evidenti delle tracce di sangue. Sul selciato non sono però stati repertati bossoli o ogive. La dinamica dell'evento resta dunque ancora da chiarire. Gallo, nonostante la giovane età, era un volto già noto agli archivi delle forze dell'ordine. Nel 2017 era stato già arrestato in quel caso a intervenire fu la polizia mentre spacciava Ascish, sempre a San Pietro Appatierno. Il quartiere ormai da qualche anno risulta sotto il controllo del can Grimaldi e della Vanella Grassi. L'omicidio del 24enne, viste le modalità esecutive, è quasi certamente maturato in un contesto gamorristico. Il quartiere da tempo è coinvolto in una violenta fibrillazione con la costola di Casoria del clan Moccia.